I amali razzoneri, tifosi della squadra di risole, perché mi pigliano per il culo, perché ogni tanto mi dimentico e continuo a dire tifosi della squadra capolista, invece no, mi deve venire a me, tifosi della squadra campione d'italia, bentornati sul canale è vero, mi pigliano per il culo, perché voi fateci caso, ogni tanto mi parte, tifosi della squadra capolista, ma il campionato è finito abbiamo vinto lo scudetto, quindi tifosi della squadra campione d'italia, bentornati sul canale, oggi prima di farvi vedere due cose sul nostro Milan molto molto importanti, vi voglio far vedere una cosa che mi hanno mandato, una chicca, una cosa bellissima, perché il giorno della festa scudetto mentre Milano esplodeva, tutto il mondo esplodeva, c'è un bellissimo posto in Italia che si chiama Francavilla Fontana ragazzi, sembrava di essere a Milano, la festa che hanno fatto sembrava di essere in centro Milano una festa bellissima, con fuochi di artificio, torta, una macchina con i cori, col megafono bellissima, tutta organizzata da Davide Apruzzese, Rocco Cinieri e Rocco Leo questi tre ragazzi hanno fatto, hanno creato questo magico mondo Milan, questa bellissima festa Milan vi faccio vedere il video e poi partiamo con le news grazie a tutti madonna che emozioni mamma che festa ma quanto siamo belli noi tifosi del Milan sempre magici sempre esplosivi tanti di voi mi hanno chiesto ma chi è Decatelar questo ragazzo che cerca fortemente il Milan centrocampista del Bruges come Noah Lang anche Noah Lang gioca nel Bruges il Milan vuole tutti i calciatori del Bruges è un centrocampista tanto talento tanta classe se il Milan crede fortemente nel ragazzo e secondo me proverà in tutti i modi a prendere sia lui che Noah Lang ma vi sblocco un ricordo vi sblocco un ricordo perché tanti non sanno chi è Decatelar era quello l'uomo del gol sotto le gambe a quella merda di Donnarumma ecco chi è Decatelar ma come cazzo si fa a prendere un gol del genere era la National League ragazzi novità importante su Zlatan Ibrahimovic Zlatan Ibrahimovic lo sappiamo tornerà molto molto tardi si parla di un ritorno a gennaio a gennaio praticamente quando sarà iniziato il girone di ritorno di Serie A e lui vuole continuare col Milan per amore del Milan cuore rosso nero probabilmente si farà un contratto con una cifra simbolica e poi lui prenderà i gettoni prenderà dei bonus in base alle presenze in base ai gol in base alle prestazioni questo dovrebbe essere il nuovo contratto di Zlatan Ibrahimovic però settimana prossima dovrebbe esserci un incontro nuovo agente di Zlatan Ibrahimovic perché sappiamo Minoraio là non c'è più e ragazzi si farà il tutto settimana prossima ci saranno tanti tanti incontri ma le priorità prima del calcio a mercato prima di andare a comprare i nuovi i nuovi calciatori del Milan i nuovi prospetti rossoneri saranno i rinnovi prima di tutti Raffa Leao stipendio raddoppiato secondo me Raffa Leao rimane al Milan vi voglio bene a tutti e sempre Forza Diavolo